Allora, ti conosciamo tante volte, stiamo qua tutta la serata, non te l'ho chiesto prima, non te l'ho chiesto prima, adesso glielo chiedo. È una richiesta, non so, mi sembra un po' avversiva come cosa, prima serata un duetto in televisione, non so, a me non l'ho mai chiesto, non l'ho mai fatto, mi sembra che la gente si può spaventare, è una cosa un genere, ma la prima volta, è un millennio nuovo, quindi, però si può anche, può essere, però mi sa che mi spaventare molto. Forse col tempo. Col tempo, io, non so, oppure, però che a tre, un terzetto, un terzetto forse, però un duetto così, cioè sai, dopo la previsione, un improvviso, un duetto, forse ci pensiamo, un terzetto con i terzi, un terzetto con i terzi, un terzetto con i mediani, ma ci pensiamo a stare, per il terzo, da solo, ma...